Sono la struttura portante nell'emergenza, per cui è importante sapere dove lavorano, come si organizzano, no? Il nostro braccio è un fratino. Esatto, per cui è importante, io sono venuta veramente con vero piacere oggi qui a vedere e penso che sia necessario verificare appunto tutta la struttura, che vedo che è una bella struttura comandante, insomma, non assolutamente, diciamo, idonea per le esigenze organizzative del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.